Ragazzi, buona giornata a tutti, allora la Juventus ha vinto 2-0 contro la Spal A qualcuno che mi aveva chiesto, le mie sensazioni avevo detto che secondo me questa sarebbe stata la prima partita Nella quale la Juventus avrebbe vinto, io avevo detto 3-0, però comunque con un ampio margine Le possibilità e le azioni che abbiamo fatto potevano insomma far andare la partita in quella direzione Però vabbè, comunque io non so che cacchio abbia Bernardeschi in testa in questo periodo Cioè, verso la fine partita ha avuto un'occasione al limite dell'area di rigore Ha avuto il buco giusto per tirare, invece se la tocca più avanti Se la tocca una volta in più secondo me E così si fa chiudere lo spazio, vabbè, comunque Emre Can è un altro che non mi è piaciuto quando è entrato Anche lui probabilmente è fuori condizione fisica, mentale e tutte le condizioni che esistono a questo mondo Lui è fuori in questo momento Ma allora, al primo tempo Non buono, non buono Devo dire una cosa, io quest'anno se sentite insomma quando parlo Non ho mai criticato Pjanic quest'anno sotto l'aspetto del possesso palla Sotto quell'aspetto tutto il centrocampo ho criticato Ma non individualmente Pjanic Io critico molto Pjanic sotto l'aspetto del non possesso palla Della transizione negativa Lui molte volte commette falli perché è in ritardo Perché è nel posto sbagliato, nel momento sbagliato Perché non segue Perché non accorcia E quindi questo alla fine complica le cose Complica un po' la fase difensiva Perché molte volte appunto Noi nel primo tempo abbiamo rischiato Come spesso ci capita in questo inizio di stagione Perché i passaggi per vie esterne E poi appunto in centro Da parte degli esterni avversari Avvengono perché il centrocampo non accorcia E non copre davanti alla difesa E non marca come dovrebbe E quindi questo alla fine Fa sì che i giocatori in centro siano liberi E arrivino al tiro E anche in aria di rigore nostra Con molta facilità Questa è una cosa che a me preoccupa In questo momento Perché purtroppo in questo momento La Juventus per fare ottime partite Ok? Deve avere dei grandi ritmi Perché appena cala un po' Va un po' in difficoltà Per via ripeto Sia esterne Ma soprattutto per i passaggi centrali Perché il centrocampo non accorcia Per me tutto è lì Cioè dipende tutto da lì Il fatto che la squadra Debba lavorare elasticamente In maniera omogenea Invece in questo momento non accade Soprattutto il centrocampo non segue Cioè segue la fase offensiva molte volte Ma la fase difensiva no La fase di non possesso palla Non segue il centrocampo appunto Quindi anche la difesa Secondo me dovrebbe accorciare un po' Alzarsi Infatti nel secondo tempo Ci siamo alzati molto I reparti erano molto corti E hanno avuto anche più difficoltà Quando recuperavano palla Quelli della SPAL A ripartire Perché il centrocampo E la difesa comunque erano molto alte Molto alti E quindi C'erano anche pochi spazi Per ripartire E' quello che dovrebbe fare la Juventus Infatti Sarri per me Quando ha detto Noi dobbiamo ragionare Con chi abbiamo davanti E non con chi abbiamo dietro Lui intende questo Cioè noi dobbiamo alzarci Come baricentro Come difesa Per avere tutte le parti Corti Attaccati E così facendo Devi correre Prima di tutto Meno indietro Indietro E secondo Risparmi energie E poi Hai i reparti corti Quindi una volta Recuperata palla Sai cosa fare Una volta persa palla Accorci E aggredisci subito Come è successo oggi E infatti A secondo tempo E' stato fantastico Sotto questo aspetto Nel complesso Secondo me Come trame di gioco E' stata meglio E' stata meglio Sì E' stata meglio La partita di Brescia Oggi Ho visto più difficoltà Più passaggi sbagliati Però comunque Bene o male Nel primo tempo Mi hanno fatto parecchio Incazzare Nel secondo tempo Meglio Meglio Decisamente meglio Boh Andiamo Sui singoli Ok Mi sono piaciuti molto I due terzini Matuidi Ha fatto una grande partita Secondo me Mi è piaciuto molto D'Elite Aveva iniziato Non male Un po' Così La partita Poi secondo me E' andato In crescendo Un bel 7 Per me Sono merita Bonucci Invece Oggi Mi ha deluso Io do il 6 Perché non abbiamo preso gol Altra novità Non abbiamo preso gol Ci sarebbe poi Da fare Una grandissima parentesi Sui calci piazzati Sia Diretti Che indiretti Cioè quando A favore Perché contro Vabbè Ci stiamo un po' Anche se rischiamo Ancora Però ci stiamo un po' Stabilizzando Invece Sulle punizioni A favore Sia dirette Le tiriamo Sempre sulla barriera Quindi io mi chiedo Ma vi allenate Sulle punizioni Perché è una cosa allucinante Ronaldo Di Bale O Pjanic Le punizioni Andranno sempre Sulla barriera E poi Sui calci piazzati Indiretti Quindi calci di punizione Con i cross O gli angoli anche Non riusciamo A sfruttarli Cioè oggi Abbiamo avuto Non so quanti Poi vedremo Con l'analisi tattica Se riuscirò a farla Domani Però abbiamo avuto Tanti calci d'angolo Ok E non ne abbiamo Sfruttato neanche uno Cioè È un'arma Per una grande squadra Che potrebbe Essere importante Durante Delle partite Soprattutto durante Alcune partite Nelle quali Soffri Soffri a trovare Gol Azioni Gol Quindi E soprattutto In partite Delicate Come può essere Magari una partita Di Champions League Vabbè Poi Per il resto Ramsi Mi è piaciuto Ha sbagliato Qualcosina di più Vabbè Di Bala Sicuramente Secondo tempo Molto meglio Del primo Però io oggi Il miglior in campo Mi sento di darlo Anzi A due A delete Ma a 2D Per me Sono stati Quasi impeccabili Buffon Senza voto Praticamente E L'abbiamo Anche oggi Purtroppo Vabbè Lascia stare Che Dira Che Dira Io ripeto È È un giocatore Lento Qualcuno dice Che dà Equilibrio Però quando devi Ripartire È un giocatore Lento Adesso gioca Semplicemente Perché abbiamo Costa fuori Quindi Ramsi deve fare Il trequartista Ok Se no Giocherebbe Sicuramente Ramsi Al posto Che Dira Se avessimo Costa In questo momento Per il resto Ronaldo A parte il gol A parte qualche Giocata buona Non mi è piaciuto Oggi Vabbè Comunque Per il resto Ripeto Partita Da vincere E abbiamo vinto E Tecnicamente Stiamo crescendo Fisicamente pure E anche mentalmente Ci vorrà ancora Molto tempo Molto Del tempo Insomma Io Penso che Lo dicevo già Un paio di mesi fa A novembre Potremmo Vedere qualcosa Che assomiglia Ok Alla Juventus Che assomiglierà Alla Juventus Di Sarri Comunque Adesso Vediamo Vediamo la mano di Sarri Assolutamente La vediamo Assolutamente Quindi sono Abbastanza contento Non mi sarei aspettato Insomma A fine settembre Di vedere comunque La squadra In questa condizione qui E Soprattutto Non è scontato nulla Tre partite Concentriamoci un attimo Sul campionato Anche se ripeto Bisogna concentrarsi Molto di più Sulla Champions League Quest'anno E in questi anni Però tre partite Nelle quali Dovevi fare nove punti Non è scontato nulla Hai portato casa Quindi il tuo dovere L'hai fatto Bene così Per il resto Non guarderò neanche Se andò in Inter Non mi interessa Ripeto Noi dobbiamo Allenarci In campionato Per la Champions League In ottica Champions League Ok Questo è il quattro Ragazzi Vi auguro Buona giornata a tutti Sempre comunque Fino alla fine Forza Juventus E Probabilmente Ci vedremo domani Per l'analisi Tattica Solita analisi Tattica Ciao a tutti Ciao a tutti